a velo sopra erano buonissimi e le conseguenze del troppo mangiare le stiamo pagando ancora oggi 4 gennaio perché talmente tante le cose che abbiamo mangiato tra il 31, l'1 e ancora oggi sono tre giorni che mangiamo avanzi e beviamo Gaviscon, avanzi e Alka-Seltzer, avanzi e citrosodina, avanzi e bicarbonato, tante volte solo bicarbonato, allora è il momento di mettersi a dieta, no non è ancora il momento, non si può, il 4 gennaio è presto, tra due giorni arriva la Befana e si sa, quando la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, comunque la Befana ha le calze sane, piene di roba, ha delle calze cucite enormi e che fai? Il giorno della Befana non ti mangi un euro di cioccolato? Che fai? Alla Befana non ti mangi un pezzo di carbone? Che fai? Alla Befana non ti mangi una caramellina che si attacca agli enti che non ci deve? Un marshmallow? Che la vogliamo offendere questa Befana? Che poi a proposito di offese, dall'anno prossimo la Befana non si potrà chiamare più Befana, perché c'è un decreto che adesso diventerà disegno di legge, poi verrà colorato e quindi farà insomma farà tutta l'altra fila, quindi tutto l'iter burocratico, la Camera passerà al Senato, al Senato, al Presidente della Repubblica e per legge non si potrà chiamare più Befana, ma la Befana verrà chiamata, perché è body shaming, verrà chiamata semplicemente signora attempata non proprio avvenente. Se poi è troppo lungo, il 6 gennaio sarà la festa della busta de fave della pupa arancica o qualche altra cosa insomma ci verrà in mente, perché poi il 4 gennaio, si sa, è una ricorrenza straordinaria, il 4 gennaio lo sappiamo noi bene, noi italiani che abbiamo studiato la storia e lo stesso, si sa che, no, che cos'è il 4 gennaio proprio, il 4 gennaio di tanto tempo, il 4 gennaio si sa che è la giornata mondiale che è il tanto tempo, che è successo il 4 gennaio? Ah, il 4 gennaio del 1493, quasi 15, Colombo, Colombo Cristoforo, Colombo, il grande navigatore, quello dei viali, Colombo dei viali, quello delle piazze, ecco, è partito dalle Americhe per tornare in Europa, era lì nelle Americhe, c'erano gli indigeni, che però gli indigeni di Colombo si erano affezionati, perché Colombo, si sa, se lo sanno tutti, era un compagnone, Colombo si metteva lì a cantare sulle spiagge a Magnebecco, a Nervi, tutti gli indigeni, tutti a dire Colombo sulla spiaggia, sulla battiglia, Colombo, donde vas? E dice, raga, io ve voglio bene, è bello fare le feste con voi, però veramente si è fatta una certa, siccome c'è l'epifania che tutte le feste si porta via, io devo dannare, mi aspettano a casa, mi dispiace, devo andare, c'ho i ragazzini, una cosa in altra, ma no, Colombo, non andare così a mani uedas, a mani uedas, ueltate, pochino di roba, se lui, ma no, guardi, anche per non disturbare, non vi è stata scomoda, io ho già mangiato a scrocco qui tutti sti mesi, tanto per strada troviamo qualche, se fermiamo, se troviamo qualche, ti pare che non trovo un'isola ecologica, un autogrill, una cosa, non vi preoccupate, no, c'è, teniamo per dinci, per bacco, portate, Colombo, por esempio, un pomodoro, un tomate, che? Il tomate, il pomodoro, ma due, o due, non tanta roba, perché... Cassette di tomate, ma prendete anche un po' di mais, che? Il mais, l'hai mai mangiato il mais? Mais, mai dire mais, prendete, e gli hanno dato pure il mais, e prendete un cacao, hai cacao? Dice, ma io stamattina col caffè, però adesso no, cioè, non lo so, che cos'è? Come il cacao? È una fava, è una fava, una fava di cacao, che prende, questa è buona, che la cosa... A proposito, Colombo, vuoi la patata? E sulla patata devo dire che Colombo ha titubato, dice, sai, la patata non si rifiuta mai, non si rifiuta mai, anche perché il viaggio è lungo, la patata fa comodo, fa anche un po' di compagnia, e quindi allora, date totodas le patate più belle della zona, e quindi Colombo ha visto arrivare delle patate sulla Nama, patate veramente, 1,75, bilingue, delle patatone gigantesche, certi tuberi veramente enormi. Di fronte a tutta questa generosità, Colombo avrebbe voluto ricambiare, di fronte agli indigeni, dice, che gli do? Dice, mannaggia, non c'è niente, non c'è una lira, che vi posso dare? Cioè, solo le tre caravelle, la Nina, la Pinta e la Tirrenia, dice, che vi... la volete una caravella? E loro chiaramente dicono, no, Colombo, no, amicos, amicos, ma chi te conosce? Noi non accettiamo le caravelle dagli sconosciuti, e quindi non l'hanno voluta, insomma. E allora, Colombo... Colombo, Cristoforo, Colombo, quello dei viali, quello delle piazze, con queste tre caravelle, cariche, cariche, calavelle, cariche, ma cariche, cariche, quella roba legata, i tacchini, perché io ho notato pure i tacchini, dopo le patate, legati sul tetto, che nemmeno se avessero fatto la Salerno, la Reggio Calabria, erano così carichi, alla fine è ritornato da dove era partito, dritto a Palos. Proprio Colombo ha preso il Palos in pieno, due volte, un Palos all'andata e un Palos... un par de Palos, ha preso un par de Palos ed è ritornato a casetta con tutta questa roba. Ora, tutto questo racconto per riflettere su una cosa, pensiamo se Colombo non fosse ripartito quel 4 gennaio 1493, non solo non ci saremmo mai mangiati il cioccolato a Capodanno, tiè, ma non avremmo avuto uno degli ingredienti più importanti della nostra cucina, il pomodoro, pomodoro, tomato, pensa, una vita senza pomodoro, pensa che tristezza, già senza patata la vita è veramente grama, addirittura senza pomodoro è da suicidarsi, vuol dire una vita senza pomodoro, vuol dire una... senza pasta al sugo, una vita senza ragù, una vita senza pizza, la pizza, ma ve la immaginate una vita senza pizza? Senza pizza, innanzitutto non avremmo più amici, perché non c'è nemmeno la frase, dice sai, dice dai, incontriamoci tutti, ci andiamo a mangiare una pizza, non potendo mangiare, e so queste persone che si riuniscono, dice che ci andiamo a mangiare, e non lo so, e allora dai, sciogliamo ognuno a casa sua, non solo, senza pizza non ci potremmo nemmeno più annoiare, nessuno potrebbe dire durante un film noioso, Arcina dice, regà andiamo via, madonna sto film è proprio una pizza, no? Saremmo costretti a dire, madonna ragazzi questo film è... vediamocelo tutto, per dire, no? Oppure senza pizza noi non potremmo dire nemmeno più la frase e se non la finisci te do una pizza, perché se non la finisci te do... che me dai? Non lo so, qualcosa te do. Senza pizza e senza pomodoro la vita sarebbe più triste. Pensate per esempio a una città come Napoli, senza pizza forse sarebbe stata meno famosa, ma pur sempre bella, Napoli è veramente bella, anche senza sugo di pomodoro, anche senza pizza, e io Napoli l'ho avuta sempre nel cuore, ora voi direte, no? Può sembrare strano ai vostri occhi che uno come me è romano, perché no? Io sono romano? Non so se venisci d'accordo, io sono romano, io ve lo dico perché magari usciamo uno tra di me, no, non mi dire, sì, sono sempre stato romano, però che io romano come me, uno come me si metta a parlare di Napoli, però io a Napoli vado spesso, Napoli mi piace molto, qualche tempo fa ero in tournée al teatro Augusteo, una mattina mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, non ha il senso, una mattina mi sono svegliato e dovevo consegnare un pacco, spedire un pacco, mi serviva un ufficio postale e non sapevo dove andare, insomma era appena arrivato e quindi ora si sa che i napoletani sono sempre a disposizione per aiutare, sono sempre a disposizione e ti aiutano sempre anche quando non possono, ti aiutano anche quando non ti serve, quando ti dici guardi faccio da solo, no, ti vogliono aiutare perché sono fatti così, allora io camminando per strada su via Toledo, quella che è via Roma, chiesi a una signora e dissi scusi signora, dici te, dici te, e dico scusi, senta, oh, ma mi sbaglio, ma voi siete voi, e dico sì, in effetti io, sono io, oh Gesù, maronna me, oh, vi ho riconosciuto subito, oh non, scusate, ma voi siete cosa, l'attore, quello che esce per dinta la televisione, dico sì, esco da dinta, ce ne esco, ogni tanto appaio in televisione, maronna, lo posso dire, scusa, sempre con rispetto, perché in televisione siete un po' chiattolillo, Carmè, Carmèla, dico la signora, no, no, vieni a qua, c'è Biccon, c'è l'attore, quello famoso, quello della televisione, ma chi, un tecnico, sono due mesi, finalmente, che lo stiamo aspettando, sto cornuto, io dico guardi signora, io non sono il tecnico, Carmèla, un cornuto non è tecnico, è l'attore, non scendere, rimane a loco, io vi conosco però, io vi seguo sempre, veramente, mi fate tanta simpatia, io vi conosco, come vi chiamate, io mi chiamo Enrico Brignano, brava, Enrico Brignano, noi vi vediamo sempre, io mi brito, ci scialiamo, veramente, quando facete i pacchi, veramente, vediamo sempre i pacchi, vediamo i pacchi, signora, io non per contraddirla, però i pacchi non li ho fatti mai, come non li avete fatti, così simpatica, non fate modesto, avete fatti i pacchi, signora, io non li ho mai fatti, ma no, ma bo, non importa, che cosa volevate, senta, signora, io mi sa dire dov'è un ufficio postale, e che dovete fare? E dico, avete visto che l'avete fatto il pacco, allora, allora, sentite a me, andate alla posta centrale per i pacchi a piazza Matteotti, allo sportello 21, ci sta Alfredo, voi vi avvicinate zitto zitto, facete finta di niente e saltate la fila, poi dite ad Alfredo che vi mando io, cettino a capire, chi? Cettino a capire, lui sa, cettino a capire, la moglie di Fonzo Cascione, la mogliere Fonzo Cascione, chi le cateneva la pompa e benzina a secondigliano, poi la pompa si sono pigliata, perché tra le tasse, una cosa e un'altra, la miscata o la soglia, lasciamo aperto, comunque voi andate là, chiedete di Alfredo, e con quello subito fate. Grazie signora, grazie, non vi preoccupate, guarda è bella, che bella giornata. Io sono andato dalla posta e devo dire che, arrivato alla posta, la signora aveva pienamente ragione, perché io ci ho messo due minuti a spedire il pacco, ci ho messo 40 minuti a spiegare ad Alfredo chi era Cettina a capire, la moglie di Fonzo Cascione, che c'aveva il distributore e tutto il fatto della pompa di benzina. Anche perché Alfredo, allo sportello, non sapeva niente, quindi c'è rimasto male che gli avevano levato la pompa di benzina. Ora, chiaramente una volta uscito era tipo l'una, l'una e mezza, c'aveva una fame, allora io ho chiesto a qualcuno, dico scusi il ristorante, guardate, a mano a destra, girate a mano a sinistra, no a prima, no a seconda, no a terza e a quattro. E poi domandate, sentite la puzza di fritto e siete arrivati. E sono andato a Giggino a Barry White, da Giggino a Barry White. Giggino a Barry White è Barry White non tanto perché sia un fan, ma perché è un poco, diciamo, chiattolello. Ecco, ora io sono andato lì, ho mangiato divinamente, ho speso veramente quasi niente e tutti i giorni di repliche stavo a Napoli, è diventato il mio ristorante preferito. Pranzo, cena, colazione, veramente da Giggino a Barry White. Barry White è uomo di poche parole. In effetti lì con Giggino a Barry White ho imparato che il gesto a Napoli, il gesto, è più forte delle parole. Ecco, per esempio questo, vedete questo gesto qua? Questo è facilissimo, no? Finché quanto è disunito con le mani, però quando lo unisci è tipicamente napoletano. Questo può essere mille cose. Questo è un passaporto, un passe partout. E se uno sa fare questo, io per esempio da Giggino, quando entravo, lui già mi capiva. Io entravo al ristorante e lui mi diceva, voglio mangiare. Ma non lo vedi che il ristorante è pieno così? E chi è una persona? Sì, ma sono su lì. C'è ben sia. Oh, io ho paura che poi mi rimane un coppio e un stomaco. Ma tu si sei fissato. Non so scema. Ma faccio al ricreato, faccio pure al scarpetto. È chiaro? Insomma, a Napoli non ci sarebbe neanche bisogno di parlare. Ma se uno volesse veramente imparare l'idioma, la lingua più che il dialetto napoletano, rimarrebbe affascinato specialmente dagli insulti. Ai noi ce ne sono tantissimi, ma insulti non banali. Alcuni insulti a Napoli sono poesie, sono veramente a Indecasilla a Bisciolti. E Napoli è un'arte, quella dell'offesa personale. Per esempio si va dalla semplice Lota, Sinalota. Quattro lettere. Anche Piezzelota. Che la Lota, per chi non è di Napoli, è il fango, è la fanghiglia di fogna.